Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale youtube. Siamo all'estrazione del sesto giveaway e ho raggiunto i 1800 iscritti e dunque possiamo nominare la vincitrice. La vincitrice è Laura Mantarro. Prego Laura di mettersi in contatto con me privatamente su facebook dandomi i suoi riferimenti, indirizzo e codice di avviamento postale, insomma tutto ciò che è necessario per la spedizione dei premi. Non dimenticate di sottoscrivere il mio canale e di lasciare un like. Ciao ragazze, a presto! Ciao!